All'interno del settore delle security cam, action cam, dash cam, l'azienda cinese Yi Technology è ormai un punto di riferimento per quanto riguarda l'affidabilità e la qualità dei prodotti. Quest'oggi andremo ad analizzare proprio questo oggettino, ovvero il nuovo prodotto della compagnia asiatica, la Yi Mini Dash Camera, la quale è caratterizzata principalmente da un corpo compatto ed un prezzo altamente competitivo. Come si sarà comportata durante i nostri vari test? Scopriamolo insieme all'interno della nostra recensione. Abbiamo la solita confezione in pieno stile Yi, abbiamo poi la Dash Camera che vi ho fatto vedere prima, è presente inoltre il caricatore da auto con output 5V, è presente infine il cavo per l'alimentazione che vi faccio vedere in questo momento che è lungo circa 3 metri e mezzo, quindi è veramente lunghissimo, questo servirà a farlo passare insomma all'interno delle varie parti della macchina per nascondere il filo, perché alla fine è brutto avvedersi questo filo che circola ovunque, quindi è lungo 3 metri e mezzo e poi abbiamo il manuale delle istruzioni. Ed eccoci qui, a differenza delle altre Dash Cam prodotte dall'azienda, questa è formata da un unico blocco, come potrete notare, su cui troviamo l'attacco con l'adesivo 3M, il sensore, il display qui sulla parte frontale ed i tasti funzione proprio qui in basso. Questo viene da sé quindi che sia un prodotto decisamente più comodo rispetto agli altri, perché non necessita di un attacco esterno. Le dimensioni sono di 85.5 x 54 mm x 38 mm di spessore e un peso di 70 grammi, quindi è veramente molto leggero. Nonostante questa camera sia realizzata interamente in plastica, come potrete sentire in questo momento, l'assemblaggio è piuttosto buono, comunque c'è una cura particolare nei dettagli e così anche come il materiale utilizzato che anche se comunque vi dicevo è plastica, abbiamo questa lavorazione opaca che restituisce un buon feeling sia al tatto che alla vista. Posteriormente troviamo l'adesivo 3M che permette di attaccare la Dash Cam sul parabrezza ed il sensore che può essere regolato solamente verticalmente. Per quanto riguarda questo adesivo, diciamo che l'ho staccato e riattaccato più volte e non ha mai perso per il momento la colla. Inoltre è possibile anche, vediamo se riesco, ecco qui, staccarlo per attaccarne magari uno nuovo. Sul lato destro troviamo lo speaker, l'ingresso per la microSD e l'ingresso microUSB per la ricarica, mentre dalla parte opposta è presente il microfono con il tasto reset. Tornando invece ai tasti fisici ho dovuto attaccare la Dash Cam all'alimentazione per farvi vedere insomma la loro funzione. Il primo tasto è di registrazione di emergenza back, quindi premendolo questa avvierà una registrazione di emergenza di circa 10 secondi che ci permette di registrare un determinato momento. Di solito la registrazione di emergenza interviene non appena i sensori capiscono che stiamo per magari tamponare un'auto e così via. Questo perché in base insomma all'accelerazione della macchina o comunque in base ad una frenata brusca questo si attiva. Più avanti parleremo meglio di questa funzione, mentre è il tasto back una volta che entriamo all'interno delle impostazioni, così come questi due sono dei tasti direzionali quindi destra e sinistra e questo di conferma. Tornando a quest'altro è un tasto, questo qui il secondo, ah scusate, che ci consente di registrare e mettere in pausa mentre il terzo è il tasto che ci porta insomma alla galleria e un tasto direzionale destro mentre l'ultimo è il tasto power o di impostazioni perché premendolo entriamo nelle impostazioni oppure di conferma. In questo modo metto pausa, qui apro la galleria, andiamo a vedere tutti i vari filmati. Frontalmente abbiamo un display TFT LCD da 2 pollici di diagonale con risoluzione 960x240 pixel. Se visualizzato perpendicolarmente la qualità è buona così come i colori e la risoluzione, seppur la luminosità massima non sia poi così alta. Infatti sotto la luce diretta del sole diciamo che la visibilità è appena sufficiente. Adesso vi sto facendo vedere un video così magari potete minimamente insomma vedere come è insomma questo pannello. Mentre per quanto riguarda gli angoli di visuale si poteva fare di più in quanto spesso dalla postazione di guida è difficile capire cosa si stia inquadrando effettivamente. Tuttavia ragazzi dobbiamo anche considerare che il display alla guida è una distrazione e infatti per esempio andando nelle impostazioni, vi faccio vedere subito, abbiamo come potrete notare lo standby automatico quindi possiamo decidere se far andare in standby il display dopo un minuto, cinque minuti, dieci minuti oppure mai. Diciamo che sarebbe cosa buona e giusta come direbbe qualcuno dopo un minuto perché almeno insomma evitiamo di guardare il display e distrarci alla guida. Ma allora come funziona questa Yi Dash Mini Camera? Per allora una volta collegata all'alimentazione quindi all'auto non appena metteremo in moto il nostro veicolo la camera si accenderà automaticamente ed inizierà a registrare. A questo punto tra le impostazioni è possibile scegliere e vi faccio subito vedere un intervallo di registrazione ovvero se realizzare clip continue da un minuto oppure da tre minuti. Comunque lui continuerà a registrare finché la macchina non si spegnerà però qui possiamo scegliere se registrare clip da un minuto oppure da tre minuti. Grazie agli accelerometri presenti al suo interno la camera avvierà automaticamente una clip di emergenza di dieci secondi. Adesso vi faccio vedere come funziona. Spingendo questo tasto la attiviamo noi quindi manualmente e questo registrerà una clip di emergenza di dieci secondi che riprenderà l'eventuale incidente ancor prima della collisione. Parlando quindi di registrazione a bordo di questa Yi Mini Dash Camera troviamo un sensore da 2 megapixel con apertura f 2.2 e wide angle da 140 gradi. Possiamo registrare alla risoluzione massima di Full HD quindi 1920x1080 a 30 frame per secondo oppure in HD 1280x720 sempre a 30 frame per secondo. Ovviamente questo è un prodotto economico ragazzi non abbiamo molte opzioni per quanto riguarda la risoluzione ma nonostante tutto le registrazioni risultano essere sufficienti in condizioni di buona illuminazione seppur sia facile notare sempre del rumore di fondo. Nulla di trascendentale comunque anche perché questa camera non è pensata per realizzare dei cortometraggi bensì per raccogliere testimonianze durante la guida. Infatti riusciamo a leggere tranquillamente le targhe e la segnaletica stradale fino ad una media distanza. Il bilanciamento del bianco è equilibrato ed i colori sono buoni ma se è presente del sole nel campo di registrazione sarà possibile notare un abbondante lens flare. Di sera ovviamente la qualità ragazzi purtroppo va a calare e decisamente il rumore aumenta. In questo caso la visibilità è ridotta e riusciamo giusto a vedere ciò che è illuminato dai fari del nostro veicolo. Infine molto buono l'audio registrato che riesce ad essere pulito e cristallino così come lo speaker. Buona Roberto? Beh sì. Le sigarette sono legali? Le sigarette sono legali? Quindi tutto ciò che è legale è buono? Beh non è detto questo no. Quindi potabile vuol dire che è soggetta una legge di potabilità ma buona? Il è l'heure, finis l'heure di danser, danse, t'inquiète pas tu vas danser, balance. Insomma avrete capito ragazzi che questo dispositivo è pienamente in linea con la sua fascia di prezzo perché per essere un prodotto low cost svolge comunque adeguatamente il suo lavoro. Per quanto riguarda il software ragazzi possiamo muoverci all'interno dell'interfaccia come vi dicevo con i tasti fisici. Quindi possiamo andare a scegliere tra Full HD e HD, poi abbiamo durata video quindi tra 1 o 3 minuti, registrazione audio acceso spento, sensore G basso medio alto che significa che i sensori saranno più sensibili ai movimenti. Quindi se mettiamo alto ad un minimo, non so, ad una frenata brusca inizierà a registrare con la registrazione d'emergenza. Abbiamo poi lo stand by del display, la luminosità che è su tre livelli, il wifi che appunto acceso spento, formatta micro SD, ripressino, impostazioni di fabbrica, ogni volta qui dura pochissimo il menu. Abbiamo poi il report di guida che ci fornirà delle informazioni una volta spenta la macchina e ogni volta questo torna indietro. Comunque magari ci fornisce delle informazioni riguardo la velocità media e il tempo di guida. Rimanendo su questo aspetto troviamo una funzione decisamente utile perché la dashcam continuerà a registrare anche 10 secondi dopo lo spegnimento del veicolo. Inoltre ragazzi dal momento che questa mini dashcamera possiede anche il wifi possiamo collegarla direttamente allo smartphone. vi faccio vedere come, scarichiamo l'app direttamente dal play store, andiamo ad attivare la localizzazione perché ci viene sempre richiesta, facciamo collega e vedrete insomma che è molto intuitivo e in questo momento la sta collegando. Ecco qui. Una volta entrati all'interno del menu possiamo scattare direttamente qualche foto di quello. Vedete? Io adesso ho girato improvvisamente la dashcamera e partita la registrazione di emergenza perché ho messo sensibilità alta. Comunque quello che vi voglio far vedere è che possiamo scattare delle foto direttamente con lo smartphone possiamo andare a vedere tutto quello che è presente sulla memoria. Ci vuole un attimo che carichi tutto, come potrete notare poi le registrazioni di emergenza sono opportunamente segnalate e qui sono presenti tutte le varie impostazioni di sistema che possiamo andare insomma a cambiare, a gestire a nostro piacimento. Inoltre presenta anche un album locale, no ho sbagliato, un album locale dove possiamo andare a vedere tutte le foto magari che abbiamo scattato. In conclusione ragazzi questa Yi Mini Dash Camera è un prodotto che riesce a svolgere tutte le funzioni per cui una dashcam è stata pensata. Quindi abbiamo anche il vantaggio di non avere supporti esterni ma è possibile attaccarla e staccarla al parabrezza ogni qual volta se ne abbia la necessità senza alcun problema. Questa camera è disponibile al prezzo di 39,99€ ma dal 15 al 23 maggio utilizzando il codice sconto Mini Dash che vi lascio anche qui in descrizione con tutti i vari link sarà possibile acquistarla a soli 26,99€ e ragazzi a questo prezzo è sicuramente un buon acquisto soprattutto per chi vuole possedere delle testimonianze durante la guida per evitare comunque contenziosi in caso di incidente ma senza spendere una fortuna. Quindi è il prodotto perfetto. Comunque ragazzi qui in descrizione vi lascio il link alla recensione testuale dove sono presenti ancora più dettagli e qui sempre in descrizione vi lascio tutti i link per l'acquisto. Quindi lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto. Io penso che possiamo concluderla qui. Un saluto a tutti da Leonardo per GizChina.it Grazie a tutti! Ciao!